Rodolfo Fiorella, Presidente del Consiglio degli Studenti, la proroga concessa dal Senato Accademico agli studenti in regime di decadenza rappresenta un'importante opportunità. Sì, di certo come prima cosa vorrei ringraziare il magnifico Rettore e il Senato Accademico per aver approvato questa proroga agli studenti in regime di decadenza in quanto hanno dimostrato come sempre avviene che attraverso un dialogo costruttivo con gli organi rappresentativi degli studenti competenti per dialogare con il Rettorato e il Dipartimento Amministrativo si riescono ad ottenere risultati a favore degli studenti e si riescono a riportare al magnifico Rettore e a tutta quanta l'Università le problematiche che hanno gli studenti. Sicuramente è un'opportunità che ci viene concessa dall'Università in quanto attraverso questa proroga si consente a tutti quanti gli studenti in regime di decadenza la possibilità di poter continuare a sostenere esami e in questo termine che non è un termine breve ma anche un termine abbastanza ampio si consente di far sì che a tutti quanti quegli studenti che erano in decadenza e che nell'ultimo periodo si sono impegnati sostenendo esami e quant'altro di poter terminare il loro percorso di studio. Quindi vorrei di nuovo ringraziare il magnifico Rettore per un dialogo sempre costante e continuativo che ha avuto con me come Presidente del Consiglio degli Studenti e con la Commissione formata da Raffaele Belfiore e Gennaro Niro che abbiamo istituito proprio per la questione sulla decadenza. Inoltre sugli altri due argomenti tentati poc'anzi dal magnifico Rettore noi studenti dobbiamo anche lì ringraziare il magnifico per un dialogo costruttivo che anche in questo caso ha avuto con noi studenti apportando delle modifiche sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene agli studenti fuori corso e quindi anche in questo caso con un dialogo costruttivo si è riuscito ad avere una linea unita tra gli studenti e gli organi predisposti all'università e ringraziamo anche per queste borse di studio che sono state istituite le quali sicuramente vanno a premiare gli studenti meritevoli e sono anche una spinta per gli studenti dell'Unimol a rendere sempre di più. Credo che questa riflessione che abbiamo fatto insieme sia una testimonianza utile del modo in cui noi ci dobbiamo rapportare mi fa piacere che Fiorella non ringrazia Fiorella la mia persona, ringrazia l'azione di una dirigenza di questa università che responsabilmente si è data carico dei loro problemi e penso che veramente questo meccanismo di dialogo deve servire vedete si dice occorre dare valore, fare valore della vostra esperienza universitaria il pezzo di carta e fra l'altro oggi sapete che si discute dell'abolizione possibile del pezzo di carta il pezzo di carta, il cosiddetto pezzo di carta cioè il titolo di studio che ha nel nostro paese valore legale deve essere accompagnato da un valore sostanziale e il valore sostanziale è quello che noi come professori siamo capaci di trasferire a voi studenti e noi siamo tanto capaci di trasferire a voi studenti ad una condizione che abbiamo i segnali da voi che quello che trasferiamo viene recepito e per fare questo occorre appunto quella parolina che Fiorella ha ricordato prima e cioè il dialogo tra di noi vi invito a tenerlo sempre aperto e costante